Sindaco è stato impegnato insieme alla protezione civile anche nel giorno di Pasqua per un ennesimo allarme nel polo petrolchimico? Certo, per un sindaco purtroppo non c'è giorno di festa perché la zona industriale non si ferma mai, lavora H24 e quindi domenica sera intorno alle 17 c'è stato uno sfeccolamento che subito io con la protezione civile di Melilli con il responsabile Giomato Albanese appena visto che a Melilli si vedeva quel fumo nero sono sceso nella zona industriale ho avuto il piacere di incontrare i responsabili ingegneri Acchetta e il direttore della Versalis Zuccherini che mi hanno spiegato qual era il motivo che era successo era successo che la pompa di gelangio dell'acquamare era andata in tilt per una varia e che quindi le due linee di edelene che c'erano in produzione man mano che si alzava il discorso per quanto riguarda la temperatura quindi hanno dovuto chiudere una prima linea e una seconda linea e quindi hanno dovuto mandare in torcia tutto il prodotto che c'era in produzione l'impianto mi dicono i responsabili era in funzione è stato questo discorso che l'acqua del mare non arrivava agli impianti e quindi non faceva raffreddare le colonne e quindi hanno dovuto fermare l'impianto però era tutto sotto controllo mi hanno detto i tecnici infatti dopo qualche ora è tornato alla normalità e questo è purtroppo il problema della zona industriale che anche nei momenti di maggior tranquillità perché in questo momento noi avevamo tutta l'ISAB che è in manutenzione e quindi tutta ferma quindi l'unico impianto che era in funzione era questo qua e che purtroppo dalla torcia mancava un non mi ricordo ora come si chiama tecnicamente come si chiama per fare l'abbattimento dei fumi ecco perché quando succede sempre spesso nei giorni di festa forse anche un problema di turnazione di controllo no io credo di no perché là io ho incontrato il giorno di festa ho incontrato il direttore responsabile tecnico e gli altri tecnici quindi sono per la sicurezza io non penso che nella zona di strada ci può essere giornata festiva si deve sempre lavorare e si deve stare sempre attenti però purtroppo mi dicono che questa bomba di rilancio dell'acquamare ha subito un intoppo e quindi per un allagamento e quindi per paura che poteva andare in corto quindi hanno dovuto chiudere gli impianti nessuna conseguenza sul piano ambientale? no no credo di no a meno mi hanno assicurato ora oggi stamattina mi dobbiamo mandare tutta la relazione e così avremo i dati più certi e potremo rispondere con maggior esattezza grazie